Ecco la nuova metro taglio del nastro con il ministro del Rio. Buon pomeriggio a tutti, buon sabato, bentrovati al nostro telegiornale. È stata inaugurata questa mattina dopo dieci anni la stazione di piazza Municipio della Metropolitana, un'opera all'avanguardia per servizi e per funzionalità. Vediamo. Siamo all'interno della nuova stazione della linea 1 della metro di piazza Municipio, un'opera davvero avveneristica, ricca di particolari e dettagli interessanti. Un fiore all'occhiello non solo per Napoli ma per tutto il mezzogiorno. Per completare l'opera che si estenderà verso Capodichino saranno necessari altri cinque anni. Poi la metropolitana di Napoli sarà completa e rappresenterà uno dei massimi modelli architettonici nel mondo. Ma quella inaugurata stamane è solo una parte della nuova stazione. Per avere il lavoro completo ci vorranno almeno altri cinque anni. Vedete qui alle mie spalle il cantiere che fa da sfondo al maschio Angioino. Un'opera davvero imponente. Alla cerimonia ed inaugurazione della nuova stazione è anche il ministro Graziano del Rio che ha detto momento storico anche se sulle infrastrutture c'è bisogno che ci siano maggiori investimenti. Il ministro Graziano del Rio ha parlato di svolta storica, un momento importante per Napoli e per il Sud anche se bisognerà investire nelle infrastrutture per migliorare i servizi e fare da traino a sviluppo e occupazione. Dobbiamo fare una grande cura del ferro a questo paese. Oggi è una grande giornata per Napoli. Questi luoghi di bellezza danno l'idea di una nuova speranza per tutto il mezzogiorno e non solo per Napoli. Il ministro è una grande speranza per Napoli anche per l'occupazione e lo sviluppo. Sì, noi dobbiamo far ripartire i lavori pubblici in tutto il mezzogiorno. Le risorse ci sono. Dobbiamo superare le inefficienze amministrative. Nel 2014 i bandi pubblici sono aumentati al sud del 44%. Ciò significa che è possibile ripartire. Il lavoro di questi operai, di questi ingegneri, delle persone che hanno, delle amministrazioni comunali e regionali che hanno lavorato a quest'opera dimostrano che è possibile ripartire, che si possono vincere anche le sfide molto impegnative come questa. Il sindaco De Magistris invece ha sottolineato l'importanza dei trasporti con uno sguardo rivolto al futuro. È venuto col ministro del Rio a testimoniare che questa è una delle più importanti opere pubbliche italiane in questo momento. Grazie alla fatica di tanti operai, di tanti lavoratori, grazie all'impegno duro, costante, serio e difficile dell'amministrazione comunale. Che non dimentichiamoci ha ottenuto i finanziamenti anche per il completamento sino a Capodichino e oggi inauguriamo una stazione che è straordinariamente bella, affascinante e che secondo me fa da competizione alle altre bellissime stazioni che abbiamo inaugurato nel passato. Ma noi andiamo, guardiamo già avanti, guardiamo a Riviera di Chiaia, guardiamo a Capodichino, guardiamo alle altre stazioni perché il lavoro deve continuare, la metropolitana deve viaggiare ancora parecchio. Vorrei anche ricordare che a differenza di chi del passato si era completamente scordato dei treni, lo voglio sottolineare, noi abbiamo bandito qualche giorno, abbiamo autorizzato la gara per 100 milioni di euro per i treni, i più primi treni arriveranno nel 2016. Sulla stessa lunghezza d'onda il cardinale Crescenzio Sepe. Un momento importante per Napoli. Beh certo, quando c'è un'inaugurazione, quando si tratta di un'opera così utile anche per la gente, allora significa che è una realtà bella, in crescita e che dà un contributo enorme anche alla vivibilità. Perché tutto questo significa anche volontà di impegnarsi a rendere la qualità della vita sempre migliore. Questo è il sud che ci piace e questo è il sud che cresce. E' questo, dovremmo molto battere su queste strutture perché solo dando dei segni concreti della capacità, della professionalità, ma soprattutto in relazione a quello che può essere l'utilità che fa la gente, il popolo, questo sì che sono dei segni veri, dei segni concreti. E di questo noi oggi abbiamo particolarmente bisogno. E davanti alla nuova stazione anche i residenti di Scampia che hanno chiesto al sindaco ma anche al ministro un maggiore impegno per il popoloso quartiere. Bene, carceri speciali! Davanti alla stazione di piazza Municipio anche i residenti di Scampia hanno chiesto al sindaco e al ministro un intervento immediato nelle vele. Il popoloso quartiere ha bisogno di una politica abitativa diversa, dove prevalgano investimenti, bonifiche e soprattutto aiuti ai residenti. Una questione che ormai va avanti da anni e rispetto alla quale i cittadini più volte hanno protestato contro il silenzio delle istituzioni. Per Scampia, per far finanziare il piano di fattibilità a completamento del piano di riqualificazione vogliamo non solo case, vogliamo che Scampia cambi da quartiere manouso ad un vero e proprio ruolo metropolitano. vogliamo che Scampia esca definitivamente fuori dall'immaginario collettivo che i media e tutti quanti hanno dato. Non è così! Scampia è fatta di cittadini che si alzano la mattina e vanno a lavorare. Francamente è difficile per me vedere un centrodestra senza Silvio Berlusconi. Lo ha affermato alla stampa Francesca Pascale che su Marina Berlusconi a capo di Forza Italia dice mi piacerebbe moltissimo ma suo padre non vuole. La Pascale lancia invece Mara Carfagna dicendo è l'unica che si batte veramente per il diritto civile. Bagno di folla ieri a Salerno per la visita del Premier Matteo Renzi e la chermessa elettorale con Vincenzo De Luca. L'evento è stato trasmesso in diretta da TV Luna con incollegamento Salvatore Calise e Massimiliano Guerriero. Per il Premier con De Luca governatore la campagna uscirà definitivamente dalla crisi. Se la campagna sarà amministrata nei prossimi anni come è stata amministrata a Salerno il PIL del nostro paese crescerà tra lo 0,5 e l'1%. Basterebbero solo questi 20 secondi dell'intervento di Matteo Renzi a Salerno per dissipare ogni eventuale dubbio residuo sul feeling tra il Premier e Vincenzo De Luca perché ieri in 40 minuti circa di intervento a braccio il primo ministro e segretario del PD ha chiarito una volta e per tutte che la vittoria in campagna è una questione di importanza nazionale. Qui si decide il destino dell'Italia e quindi basta polemiche sugli impresentabili e via dicendo. Renzi è arrivato a Salerno per dare inizio a una narrazione diversa della campagna. Lotta alla burocrazia, creazione di un mega distretto turistico, lavoro come antidoto al veleno della camorra. La sintonia con De Luca è totale. C'è bisogno di spendere i 600 milioni sulla depurazione per i motivi che ha detto Enzo e anche perché stanno arrivando le sanzioni dall'Europa. È ridicolo che l'Italia prenda le sanzioni perché non ha fatto gli impianti di depurazione. È ridicola, è inaccettabile e non è soltanto un trama campano ma lo dico in campagna. Ci sono le partite che riguardano la città di Napoli. Le ha citate tutte Enzo, non ho bisogno di ricordare, a partire da Bagnoli. C'è la grande scommessa culturale intorno a Pompei e Ercolano. Ma vi rendete conto quanta bellezza? Provate a immaginare uno dei nostri grandi patrimoni immobiliari, una parte di Pompei, provate a chiudere gli occhi e immaginatela da un'altra parte. Oppure un pezzo della reggia di Caserta immaginata da un'altra parte nel mondo. Diventa un'attrazione incredibile, unica, diventa un luogo che giustifica la visita, una destinazione. Ma è possibile che noi che siamo baciati da tanta bellezza non riusciamo a reggerla e a valorizzarla quanto dovremmo? Per il primo ministro questa è la volta buona e ne è convinto soprattutto dopo aver visitato assieme a De Luca il porto turistico di Marina Rechi, la cittadella giudiziaria e l'unico sito di compostaggio realizzato in Campania. Ma guai a riposarsi sugli allori, domenica si vota, questa sarà la settimana della vita o della morte. Questa campagna elettorale non è la campagna di Enzo De Luca, non è la campagna del PD, è la campagna elettorale nella quale si decide se iniziamo a spendere bene i fondi europei o continuiamo a buttarli via, se iniziamo a creare posti di lavoro o continuiamo a buttarli via, se iniziamo a fare della cultura il motore di sviluppo del nostro paese o no, se iniziamo a fare dell'agroalimentare non soltanto un settore che tira ma un modo di affermare la nostra identità. Applauditissimo l'intervento di Vincenzo De Luca, il candidato governatore ha ricordato tutti i punti salienti del programma anticipati a TV Luna nel corso delle puntate della trasmissione intitolata Testa Alta. Ascoltiamo un estratto dell'intervento di ieri. Noi cercheremo di chiedere un aiuto al governo, avremo bisogno di un aiuto da parte del governo, per i processi di reindustrializzazione, per chiedere che i grandi gruppi nazionali non abbandonino la campagna, questa è una terra che non può essere desertificata, altrimenti diventa complicato anche la battaglia per la legalità, perché quando in un grande quartiere un padre di famiglia ha un ragazzo per un anno, due, tre, cinque, non ha una speranza di vita e di lavoro, prima o poi incontra la camorra. Questa è la battaglia vera contro la camorra. Allora, noi ci presentiamo, ci proponiamo per fare queste cose e creare lavoro, e voi sapete meglio di chiunque altro, e l'ultima cosa è finisco, che la sola vera grande speranza di avere legalità e trasparenza è legata alla nostra vittoria. È stato il governo nazionale che ha commissariato l'azienda ospedaliera di Caserta, inquinata da infiltrazioni camorristiche. Lo sapete voi e lo sappiamo tutti in campagna, c'è un vero sistema di potere duro che deve essere sconfitto, ed è quello che si aggrega intorno a Luigi Cesaro, che non vota per noi, ma vota per qualcun altro. Allora, noi ci presentiamo così, a testa alta, per questo lo slogan, a testa alta. Noi siamo la nuova campagna, siamo la campagna civile, la campagna laboriosa, la campagna che è anche aree di sofferenza sociale, ma che è anche, come dire, il senso del futuro, della sfida della modernità. Sapete voi, e lo sanno tutti in campagna, anche le pietre, la sola vera speranza di cacciare dalle istituzioni delinquenti è rappresentata dalla nostra vittoria. Voltiamo pagina, un ordigno è stato fatto esplodere la scorsa notte davanti alla saracinesca del deposito di un'enoteca in via San Pietro a Maiella. L'esplosione che ha svegliato gli abitanti della strada, ha danneggiato la saracinesca del deposito e mandato in frantumi i vetri del locale, sia quelli anche di alcuni abitazioni dello stabile. Torna in piazza il mondo della riabilitazione. Ieri protesta contro le liste d'attese ai tagli imposti dalla Giunta regionale. Oltre 3.000 i posti a rischio nel comparto. Berdogna! 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 Famiglie, lavoratori, utenti ancora una volta in piazza per protestare contro i tagli imposti dalla Giunta Caldoro al mondo della riabilitazione. Oltre 2.000 i manifestanti che sono partiti verso le 10.30 dalla colonna spezzata per poi raggiungere verso mezzogiorno la sede della regione Campania. Qui gli organizzatori della marcia hanno consegnato le lettere con cui si avviano le procedure di licenziamento per 3.500 persone. In testa al corteo, Remo Del Genio, presidente dell'Aias. I disabili non possono avere tetti di spesa. Questo è l'unico motivo che noi siamo vicini alle famiglie contro questa amministrazione che per lungo tempo è ignorata. In 5 anni non è riuscito a fare un decreto definitivo. In queste settimane ci sono stati diversi incontri in regione Campania? No, queste organizzazioni delle famiglie, ARIS, AIOP, FederLAB, ANFAS, sono state completamente ignorate perché sanno che noi rappresentiamo la realtà, hanno voluto trattare con pochissime sigle rappresentative di loro stessi. Su tutte le fure, ovviamente, le madri degli utenti dei centri di riabilitazione. La cosa chiedete al governatore Caldoro? Ovviamente di allungare il budget dei nostri centri, di eliminare completamente le liste d'attesa e di dare più spazio ai nostri figli che hanno già delle difficoltà enormi. Basta con i tagli! Barricato in casa dopo una rapina insieme al figlio si scaglia contro i poliziotti che poi arrestano entrambi. È successo ieri sera a Napoli i protagonisti Mario Nurcaro, 47 anni, il figlio Vincenzo di 25 che hanno messo mobili e suppellettili dietro la porta di casa per impedire ai poliziotti di entrare. Quando gli agenti ci sono riusciti, i due li hanno aggrediti ferendone due in maniera lieve. Mario Nurcaro è stato accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni in concorso con il figlio. Carabinieri in azione tra Qualiano e Giuliano dove sono state sequestrate diverse discariche abusive. Sentiamo i dettagli. Tre discariche abusive sono state scoperte tra Varcatura e Qualiano dai carabinieri che hanno denunciato cinque persone. I militari dell'arma hanno fatto scattare sigilli a tre aree sulle quali sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi. Le discariche sono state scoperte nel corso di una serie di servizi contro l'inquinamento ambientale ai quali hanno partecipato i carabinieri di Giuliano insieme a quelli del Noe di Napoli con il supporto di un elicottero del nucleo di Ponte Cagnano per individuare dall'alto aree con sversamenti o accumuli sospetti. Nei guai in particolare un 47enne di Pozzuoli e un 45enne di Castelvolturno proprietari di un'area di circa 1000 metri quadrati sulla Domiziana dove sono stati ammassati circa 215 pneumatici per autotreni. Denunciati a piede libero anche due fratelli di Giuliano proprietari di un terreno agricolo di 1500 metri sito nei pressi della circunvalazione esterna in località Pozzo Nuovo di Qualiano terreno agricolo trasformato in una discarica di materiale ferroso e di plastica. E questo sarà un weekend in spiaggia per pulire le coste e l'iniziativa di Legambiente Campania. Tutela del mare e delle coste e denuncia della mala gestione del ritorale sono i temi protagonisti delle giornate di spiaggia e fondali puniti Clean Up the Med che Legambiente promuove questo fine settimana sugli areni di tutta Italia e in contemporanea a eventi in altri 10 paesi mediterranei. In Campania decine di appuntamenti da Pestum a Mondragone da Sapri a Cuma tante iniziative di pulizia e sensibilizzazione spiega Antonio Gallozzi direttore di Legambiente Campania per liberare i nostri arenini dalle schifezze abbandonate che possono rovinarci il gusto di una bella passeggiata al mare un'aggressione continua e insopportabile ai danni dei paesaggi cambiamo di più a cui è impossibile rimanere indifferenti. Legambiente in apertura del weekend presenterà il dossier spiagge indifese una fotografia dello Stato di salute delle coste italiane e in particolare dei processi di erosione che minacciano il litorale secondo un rapporto in Campania su 224 km di spiaggia 95 sono in erosione pari al 42,4% e davanti a questi numeri incombra un grande progetto di artificializzazione su 30 km di costa nel Golfo di Salerno dalla Piana del Sele alla foce del Picentino e Torrente Fiumarello Giancarlo Chiavazzo il responsabile scientifico dell'ambiente Campania propone di intervenire delocalizzando strutture e infrastrutture nei punti più critici riattivando il trasporto solido dei fiumi Sele e degli altri corsi d'acqua oggi impedito da opere idrauliche in alveo o sui versanti non sempre necessarie ripristinando sabbie perse con ripascimenti prelevati da depositi di mare profondo gli appuntamenti sabato e domenica sono a Ponte Cagnano, Mondragone, Saprica, Salvedino, Salerno, Mercatello e Nicola Cuma Il 6 settembre Gigi D'Alessio in concerto alla Reggio di Caserta per la Terra dei Fuochi Gigi D'Alessio per la prima volta possiamo dire che la musica passa in secondo piano in un tuo concerto Sì, perché avremo questa opportunità il 6 settembre faremo questo concerto grazie ad Oliveto e Rocchetta che hanno sposato insieme a me la causa per spegnere i fuochi quindi non potevo trovare una soluzione migliore prendere l'acqua ci saranno dei soldi messi da parte ci sarà un notaio che certificherà tutto abbiamo già una lista dell'ospedale Sant'Anno e San Sebastiano di Caserta aiuteremo anche la fondazione cioè la fondazione Santo Bono Positi Bono che abbiamo già iniziato a raccogliere fondi da Capodanno siamo arrivati quasi circa alla metà dell'opera cercheremo con questa iniziativa di completare sia il Santo Bono e di aiutare il Sant'Anna San Sebastiano di Caserta Per te è un sogno che si realizza perché il percorso di vicinanza alla terra dei fuochi era cominciato già molto tempo prima già in tv Sì, è cominciato un po' di tempo fa ma sulle cose bisogna iniziarle e poi portarle a termine io grazie a questa iniziativa ripeto, grazie a questa azienda le due acque che sono li vedo e rocchette che hanno creduto nel mio progetto perché non sono acque campane quindi una è Toscana e l'altra è Umbra allora per me è un motivo d'orgoglio ancora in più prendere due aziende diciamo del centro nord Italia e farle investire sulla nostra regione Tra un po' la campania va al voto cosa occorre? È un momento importante per la regione? Ma io credo di sì non voglio entrare nella parte politica perché questa deve essere diciamo che tutto sommato l'importante è chi viene eletto presidente lo faccia con il cuore chi è contro Napoli, Napoletania e la campania ovviamente sta pure contro me tutto qua poi il cittadino saprà decidere Una frase della tua canzone? Chistifico che scendono con miei capilli una femmina Ed ora lo sport il calcio alle 18 il Napoli andrà all'assalto della Juventus per conquistare una vittoria fondamentale per la corsa alla Champions League È la prima delle due finali che il Napoli deve vincere per strappare il pass per i preliminari di Champions League La squadra di Benitez fa visita alla Juventus nel giorno in cui i bianconeri di Allegri festeggiano lo scudetto e la Coppa Italia Amsic e compagni non potranno sbagliare perché soltanto con i tre punti resterebbero in corsa in attesa del derby di lunedì tra Lazio e Roma Prima di lasciare Napoli Benitez vuole poi regalare alla società e ai tifosi l'accesso alla Champions League ma l'impresa non è agevole valutando l'alto coefficiente di difficoltà delle due sfide contro Juventus e Lazio Si comincerà le 18 nella tana dei campioni d'Italia con un Napoli d'assalto che ripresenterà Higuain al centro dell'attacco Il Pipita decisivo nella Supercoppa italiana a Doha vuole ripetersi contro i bianconeri con il sostegno di Mertens sulla fascia sinistra Il Belga è in condizioni smaianti e potrebbe rappresentare uno dei Grimaldelli per aprire la difesa della Juve La tre quarti sarà completata da Amsic al centro e Caglion a destra A centrocampo saranno titolari Davide Lopez e Diller a protezione di Anducar difesa già delineata con la coppia centrale Albiolo-Britus e due laterali Maggio e Goulam A casa oltre allo squalificato Colibali sono rimasti Zapata e Mesto messo cappò da un trauma contusivo Su fronte Juve nel giorno della festa Scudetto Allegri ricorrerà un turnover moderato presentando in campo diversi titolari Tornano sicuramente dal primo minuto Marchisio e Morata che hanno saltato per squalificare la finale di Coppa Italia contro la Lazio A fianco dello spagnolo in attacco dovrebbe giocare Coman favorito su Matri Tra i pali ci sarà Buffon con Padoin Barzaghi Ogobon e Asamoa sulla linea difensiva A centrocampo Marchisio play basso con Sturaro e Pogba ai suoi lati Intanto il presidente De Laurentiis ha convinto Pepe Reina il portiere spagnolo tornerà a Napoli firmando un contratto triennale Non ci sono più dubbi Pepe Reina torna a Napoli la costruzione della squadra azzurra per il prossimo anno partirà dal numero uno De Laurentiis ha capito di aver commesso un grave errore la scorsa estate e ha voluto tutti i costi lo spagnolo che firmerà un contratto triennale da 2 milioni e mezzo a stagione Il presidente del club azzurro si consegna così in buone mani perché Reina è un portiere affidabile ed è soprattutto un leader che manca all'attuale Napoli La rifondazione comincia dunque da Reina che è innamorato della città e ha deciso di risposare la causa a Napoli lasciando il Bayern Monaco dove è stato all'ombra di un superportiere come Neuer Il prossimo passo di De Laurentiis sarà la scelta delle successore di Benitez nel casting del presidente il favorito è Mialovic seguito a ruota da Emery e Montilla c'è poi il nudo del direttore sportivo come Benitez anche Bigone dirà addio a fine campionato De Laurentiis si sta guardando intorno e sta valutando attentamente la posizione di Maurizio Micheli capo dell'area scouting che potrebbe essere promosso di esse Bene con questo abbiamo concluso grazie per l'attenzione prossimo appuntamento con il telegiornale come sempre naturalmente lunedì alle ore 13 trascorrete un sereno weekend grazie grazie